Qua in questo ambiente c'è bisogno di acqua viva, non acqua morta, acqua morta o acqua stanca. Abbiamo bisogno che l'acqua continui a esserci perché è un elemento importantissimo per la nostra vita, la vita delle culture che devono nascere e in più ci devono dare da mangiare. Senza tutto questo non avremo più esistenza. Al giorno d'oggi manca purtroppo la consapevolezza di quello che abbiamo intorno. Ma poi tutta questa tutela ambientale porterà a qualcosa, a uno sviluppo sostenibile davvero? Noi che abbiamo le conoscenze sulla biodiversità dobbiamo imparare anche a trasmettere alle persone che vivono in questi territori e nel delta. Dobbiamo rendere il matrimonio tra l'economia e la natura il più rispettoso possibile, solo così possiamo salvare il nostro futuro. La storia di questo territorio e il suo territorio stesso non sono scindibili, sono un valore unico, una cosa unica. Trovare quel filo che vada a collegare tutte queste perle in modo tale da poterle poi trasmettere come cosa davvero preziosa a chiunque venga a conoscerci. Questa è la mia terra, ve la voglio presentare, fare conoscere e anche possibilmente amare e rispettare il po' e tutto ciò che vi sta intorno.